Allora, dunque, un po' più forte, no, quella prima, quella sugar baby, allora questa è la testa, esatto, allora dov'è, dov'è, questo è il contello, e allora vado, 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 sei tranquillo Filippo, vado, è incitatissimo, non si muove, è incitatissimo, non l'ho mai vista, facci clicca, non si muove. Vado a colpire, vado a colpire, vado a colpire, che cos'è qua, dai, allora dove, 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 si indica questa, qua, qua, questo qui, qua, questo, sei, bravo, 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 te lo metti, bravo.